Sì, grazie. Come Anci ci siamo posti un problema, insieme al Commissario Sala, che saluto. Come fare in modo che Expo 2015, Expo Milano, non sia vissuto solo come un evento milanese o lombardo, ma sia un evento nel quale si identifichi tutto il Paese. E allora abbiamo messo in campo un'iniziativa su due fronti. Quindi, da un lato coinvolgere quanti più territori del nostro Paese. Il tema centrale di Expo è il cibo, è la nutrizione, l'alimentazione. Se c'è un Paese nel mondo che può dire qualcosa sul cibo, è l'Italia. E in Italia ogni territorio ha qualcosa da dire sul cibo. E quindi abbiamo messo in campo un'iniziativa, un grande tour di promozione di Expo nelle città italiane, tra quelle che hanno già realizzato iniziative e quelle che hanno programmato, oltre mille comuni italiani avranno iniziative dedicate a Expo, che serviranno a promuovere Expo in quel territorio e a valorizzare le tipicità agroalimentari, gastronomiche, culinarie di quel territorio, determinando così un legame tra il tema di Expo e ogni territorio del nostro Paese. E questo concorrerà ai 20 milioni di visitatori, perché per fare 20 milioni di visitatori intanto bisogna porsi l'obiettivo di portare milioni di visitatori anche dall'Italia, oltre che dall'estero. Quanto più facciamo identificare Expo con l'intero Paese, tanto più questo obiettivo si può realizzare. Il secondo fronte è offrire l'intero Paese al mondo.